Ciao, benvenuti alla tredicettima tappa del Market Express, io sono Roberta, io sono Italia, io sono Pietro, consigli di gusto. Allora, questa tappa ovviamente è dedicata al gusto, quindi vabbè noi abbiamo già la forchetta in mano, voi seguiteci, ciao! Ciao, benvenuti alla tredicettima! Il profumo, l'aroma, l'aroma deve essere salmato, deve essere di mare, di mare fresco di mattina, è piacevole, se sentite le puzze vuol dire che non è un grande pezzo. Voi prendete una sogliala, dici sporcate le mani, sentite l'odore, provatelo! La vongola dell'Adriatico, che secondo me non è uguale per stabilità, fantastiche, insomma, se voi le prendete e le mettete su una piastra rovente, quindi poi se con gli si aprono, voi ve la mangiate così, va a arrivare una bomba di sabina, perché poi la vongola rimane bella lunga d'acqua. Poi sono l'aglio, il finocchio selvatico, possiamo mettere anche un aroma di salto, Poi sono l'aglio, il finocchio selvatico, possiamo mettere anche un aroma di salto, salvia, e su questo forno noi mettiamo dei pendolini, dei pendolini sull'aglio di vino bianco. E siccome noi viviamo qua e percepiamo con i nostri fatti, con i nostri sensi, tutto questo, questo per noi diventa poi anche fortemente ispirativo. E quindi quando pensiamo, come questo gruppo piatto, pensiamo appunto alla nostra realtà che cerchiamo di trasformare per la sua cucina. Ciao! Aspettila! Aspettila!